Arrivano i rinforzi, hanno già raggiunto Campobasso i cinque medici dell'esercito che il generale Antonio Battistini, comandante sanità e veterinaria dell'esercito, su espressa richiesta del presidente Toma e del direttore della protezione civile Brasiello, ha inviato in Molise per dare manforti al personale che da mesi sta fronteggiando l'emergenza con un organico sottodimensionato. Due rianimatori, due cardiologi e un medico generalista Covid saranno già da domani in corsia per dare un contributo che in questo momento delicatissimo appare fondamentale. Un anestesista al Santimotio di Termoli, affidato al dottore Rocchia, gli altri quattro in servizio al Cardarelli con flocco referente. Intanto la variante inglese corre veloce, lo conferma il sequenziamento di altri tamponi da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. A preoccupare sono il numero dei contagi, 144 nelle ultime ore, su 1040 tamponi refertati dal Laserem con tasso di positività che schizza al 13,8%. 16 casi a Campobasso, 13 a Dagnone, 12 a Termoli, 11 a Santa Croce di Maiano e Belmonte del Sagno, 10 a Montaquila, 9 a Isernia, a dimostrazione che dove il virus è presente si trasmette con facilità. Due invece i decessi, non ce l'hanno fatta un 65enne di Colle d'Anchise che era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli e un 84enne di Termoli, degente di malattie infettive. Il totale delle vittime sale a 351, 6 i trasferimenti, 1 in rianimazione, 4 ricoveri, tutti in malattie infettive, nessun dimesso. Sono 111 pazienti covid ospedalizzati, 80 al Cardarelli, 13 nell'area grigia del San Timotio di Termoli, 10 al Gemelli Mulise, 8 al Neuromed di Pozzilli, in totale 17 i degenti in rianimazione. Nelle ultime ore in 100 hanno sconfitto la malattia. Infine i vaccini, somministrate 21.556 dosi, 21.045 Pfizer, 551 AstraZeneca, 0 Moderna. E mentre è arrivato il turno di scuola, Università e Forze dell'Ordine, sui social è polemica sulla gestione degli over 80 a domicilio. Molti utenti, dopo aver richiesto l'assistenza a casa e dunque l'inoculazione della dose a domicilio, si sono visti recapitare il messaggio con cui l'ASREM convoca i prenotati nella maggior parte dei casi malati e con difficoltà nel deambulare in ospedale. Grazie a tutti.